Allora, Salmo 45, cioè leggiamo giusto, questi sono più che altro lati simbolici di quello che vogliamo dire, leggiamo così i primi versetti, allora, dal primo verso, mi sgorgano dal cuore parole soavi, io canto il mio poema al re, la mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore, tu sei più bello di tutti i figli degli uomini, le tue labbra sono ripiene di grazia e perciò Dio ti ha benedetto in eterno, cingi la spada al tuo fianco o prode, circondato dal tuo splendore e dalla tua maestà, e nella tua maestà avanza sul carro vittorioso per la causa della verità, della mansuetudine e della giustizia, e la tua destra ti farà vedere opere tremende, le tue frecce sono affilate, i popoli cadranno sotto di te, esse penetreranno nel cuore dei nemici del re, il tuo trono Dio dura in eterno, lo scettro del tuo regno uno scettro di giustizia, tu ami la giustizia e odi l'impietà, perciò Dio, il tuo Dio ti ha unto di olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni, questo è il quadro di Cristo, no? Che egli viene dapprima come figlio dell'uomo, vince il diavolo, ma egli è figlio di Dio, è figlio di Dio sempre, anche dentro nel ministerio del figlio dell'uomo è sempre figlio di Dio che avanza sul carro, sul carro vittorioso, vedete? Ora, tutte queste parole, tutte queste espressioni sono bellissime, esprimono veramente qualche cosa di, cioè, noi leggiamo parole, ma queste parole sono il frutto di qualcosa che Davide ha vissuto. Ecco il perché non bisogna soffermarsi troppo, cioè, sulle parole e studiarle a livello grammaticale, ma cercare di entrare, nel senso, entrare nella visione che Davide aveva avuto e che in modo così, diciamo, ristretto, perché le parole non dicono tutto, sono i pensieri, significati che esprimono veramente la dimensione, la misura, il peso dell'esperienza alla quale noi dovremmo entrare in contatto. Le parole sono un tramite, diciamo, no? Per questo si parla di dialogo, di comunicare, ok? E vedete, innanzitutto Davide comincia a dire che sgorgano dal suo cuore, no? Delle parole soavi. Queste parole non vengono dalla sua mente, sgorgano, ci fa pensare a una fonte. Questo è il risultato di avere contemplato colui che è nel carro. Ha fatto sua quella esperienza. Davide era, come tutti gli altri, soggetto alla legge, alla legge di Dio. E quindi vedeva Dio al di fuori, come tutti. Ma Davide, essendo l'uomo dal cuore verso il Signore, avendo lo Spirito di Cristo, perché lui ha, lo Spirito di Cristo lo ha guidato a fare le stesse cose, no? Sapete, quando pianse sul monte, sul monte come Gesù, ma tante simbologie. Lo Spirito di Cristo si era vestito di questo uomo per preannunciare quello che avrebbe fatto i tempi poi della sua carne. Ecco perché è stato chiamato figlio di Davide. Gesù, no? Certo, con il destino che poi Gesù sarà il re. Ok. E questo, diciamo, Davide era fuori da, diciamo così, da quella esperienza che si avvicina a quella nostra, cioè da dopo il battesimo con lo Spirito Santo. Come tutti gli altri, era anche lui figlio della legge. Venivano chiamati così a dodici anni, no? Gli ebrei. figlio della legge. Ma Davide aveva scoperto qualche cosa attraverso, perché Davide era uomo contemplativo. Quindi non è che tanto per dire guardava le cose soltanto col significato di quel momento, ma aveva l'occhio profetico. Ecco, di fatti, Davide vide la sua progenie. Quando Nathan gli parlò, è scritto, andò a sedersi davanti all'Eterno, chi sono io, che tu, e dice che egli aveva visto la sua, cioè cosa significa la sua progenie, aveva visto Cristo. Allora Davide ha cominciato ad entrare, ma si è avvicinato, capite? A quando Gesù parla del cuore della legge. Si sente parlare della legge, ci sono tante simbologie e tutto, ma l'uomo spirituale cosa fa? Non si ferma come gli altri semplicemente al rituale, ma comincia a penetrarlo. Allora al contatto di questo, c'è un altro salmo che dice io ho visto l'Empio prosperare e mi affliggevo per questo. Fin quando non sono entrato dove? Nel santuario. Non era il tempio, quel santuario spirituale di cui Davide ha cominciato a fare l'esperienza, quella progenie che gli fu rivelata dal profeta. E Davide cominciò a vedere Cristo in avanti. E la legge sarebbe, come dire, la legge mi sta portando lì, ma se la legge mi porta lì, non solo durante il tempo, vuol dire nel tempo dell'antico patto c'era la legge che ci parlava di questo germoglio che sarebbe venuto, Mosè che dice che sorgerà un profeta. Cioè nella legge, tutta la legge ci parla di qualcuno, del Redentore che doveva venire. Quindi le persone, la maggior parte, aspettava l'evento. Capite cosa intendo dire? Come oggi, si aspetta l'evento. Non si vive l'evento. Come? In ispirito. Davide, come a dire, gli fu proposta questa visione anche dal profeta e Davide, è scritto, si andò a sedere davanti al Signore. Cioè, come dire, io vengo a prendere quella visione che la legge, diciamo, mi sta annunciando. O sto e mi metto così e aspetto, tanto la legge dice che deve venire, mica sono io che lo faccio venire. Lui deve venire, io sono qua che lo aspetto. Oppure vado all'incontro. Questo è il segreto. L'uomo spirituale, l'uomo letteralista, l'uomo che rimane ancora sotto una sorta di mantello religioso. Non per dire che la cosa è cattiva, ma per dire limitata. Cioè, il credente si limita. Semplicemente perché? Perché non fa la sua parte. Io devo venire, per esempio, è scritto, Abramo si staccò dal suo paese ed è scritto che lui cercava una parte, desiderava, non mi veniva la parola, Gesù ha spiegato così, desiderava di vedere il mio giorno. Attenzione! Nelle scritture si parla che Abramo cercava una patria, vero? E Gesù invece dice del suo giorno. Non tanto come per dire, sì la patria, ma cosa cercava in questa patria? Di vedere Gesù. Egli desiderava vedere il mio giorno. Avete capito? Non si trattava solo di una patria. È vero che cercava una patria, ma qual è la patria? La patria dove Gesù era il re. Io voglio andare là. Abramo non stette lì a Ur dei Caldei, tanto arriverà. Capite, fratelli? È importante. Dio lo chiamò e lui seguì questo. Aveva sì come prima tappa la patria di Canaan, ok? Ma lui cercava più che quello il giorno del Signore, vedere lui. E cosa ha detto Gesù? E lo vide. Cercò di vedere e lo vide. Non è il fatto che egli non arrivò come arrivò il popolo di Israele, prendere possesso, eccetera, no? Ma egli aveva la promessa, poi qualcun altro doveva prendere la promessa, Mosè, no? E portare il popolo di Dio. Ma egli, diciamo, non si soffermò tanto al fatto della patria, sì, la mia progenie conquisterà quello. Non è solo questo. Anzi, aveva ricevuto da Dio anche il discorso di sarà schiava in Egitto per 400. L'aveva detto, quando Dio passò attraverso gli animali, no? L'aveva detto. Quindi lui già sapeva questo. Ma egli parla di una progenie, di un trono, e allora Abramo, scusate, gettò il suo sguardo più avanti ancora. Dice, ma perché tutto questo? Perché deve venire colui che deve regnare su quella patria. E lui bramava di vedere questo. Gesù disse, e lo vide. E poi cosa dice? E giubilò. Capisci da dove viene il giubile? Non perché sei guarito, perché hai la ricchezza, perché la benedizione. Perché vedi Lui. Allora il giubilo è vero. Perché hai visto Lui. Cioè il tuo spirito finalmente entra in contatto con colui che deve venire. Tu non hai bisogno di aspettarlo passivamente. No? Perché anche che, come, ritorniamo un po' al discorso, pace col vicino, pace con il lontano. Tutto ciò che è lontano principia in colui che è vicino. Quindi fai la pace con colui che è vicino. E allora anche ciò che è lontano, il ritorno di Cristo. Uno dice, io ancora, ieri dicevamo, non ho ricevuto ancora il battesimo dello Spirito Santo. Rappresenta qualcosa di lontano. Ma è là! È vicino a te. Ecco la parola, dice, dove sta la parola? È vicino a te. Nel tuo cuore. Non dire chi salirà in cielo, chi scenderà negli abisti. Non dire questo. È qua. Cioè il Signore è venuto e si è seduto vicino a te. Vedete? Difatti cosa dice Davide insistentemente? Egli è alla mia destra. Vedete? Come dire? Ha occupato. Io, Davide, gli ho dato il suo posto. Questo è il discorso. Non guardo sempre lontano e mi metto così aspetto e faccio sempre parole. lo dice questo, lo dice quello. Gli vado incontro. Perché? Perché egli avanza sul carro, viene e ti dice, sali. Io ti porto. Lui fa in modo che gli estremi confini della terra, no? Non siano più così lontani. Difatti perché sentite sempre parlare di questi confini? gli estremi confini della terra. Lo leggete anche in Samuele. Egli conquisterà fino agli estremi confini della terra. Egli farà tuoi gli estremi confini della terra. Io darò la pace fino agli estremi confini della terra. Tutto ciò che è lontano diventa vicino. Perché se noi diamo il posto al Signore, egli è alla mia destra, è vicino a me, vicino. Io acquisto questa ottica e mi metto in relazione con Lui. Gli vado incontro. Che Dio sia benedetto. Allora come conseguenza di questo gli dice, mi sgorgano. Succede qualcosa dentro di me. Si è aperta una fonte. Cosa diceva la samaritana? Diceva, ma noi sappiamo che dobbiamo adorare. Chi dice in questo mondo? Notate, lontano. Chi dice nel Tempio? I luoghi. E Gesù ha detto, l'ora viene, anzi è già venuta. Notate, l'ora viene al futuro. E poi dice, l'ora è già venuta. Sono i ruoli di Dio. Non è questione solo di tempo, prima, dopo. I ruoli. È vero che viene, ma è già. Tu cosa scegli? Dove vuoi stare tu? Vuoi stare a mettere lì? Ma sì, aspettiamo che avviene. Oppure ti muovi. Questo è il discorso. Un ministerio porta una parola viva affinché il popolo reagisca e gli vada incontro, faccia qualcosa, raccolga ciò che Dio sta facendo, quello che Dio viene a fare. Lo raccoglie. Non rimane passivo e non fa altro che imbambolarsi sempre con un giro di parole. E poi realmente non c'è niente. Cioè anche a livello della predicazione, quando si parla di Dio, non si produce nulla. E l'atmosfera rimane sempre quella. Ma quando veramente il Signore che parla, l'atmosfera si riempie di angeli, capite? E noi basta che apriamo il cuore, entriamo in contatto, comincia a muoversi qualche cosa nello spirituale. Per questo ho detto, è una parola di responsabilità. Cosa fai tu quando Dio parla? La scrittura dice non indurire il cuore, se oggi odi la sua voce, alla quale devi essere ubbidiente. Cioè significa sempre a te. Dice, Abramo, eccomi. Quando Samuele non capiva, andava dall'uomo. Ma tu mi hai chiamato stanotte? No, io non ti ho chiamato. Allora quello ha capito dice, quando sentirei, di così, eccomi. Perché era un uomo che conosceva. Di la parola chiave, eccomi. Come dire, mostrati accogliente nei suoi riguari, di eccomi. E così egli disse, e disse poi qualcosa di meraviglioso, disse parla tu, che il tuo servo ascolta. Vedete quanto è importante, fratelli? Cioè vedere Dio in Cristo vicino a noi, alla nostra destra. Questo è il mistero della pietà. Dio si è stato manifestato in carne, cioè come te. Più vicino di così non poteva venire. Doveva cambiare poi vestimento e chiamarsi Spirito Santo per poter venire dentro. Ma egli come figlio dell'uomo è venuto vicino a te. Ora tu hai la possibilità, cioè, di sfruttare questa situazione. No? Allora, Davide racconta la sua esperienza. Come la Samaritana dice, se tu bevi di questa acqua avrai ancora sete. Cioè, se tu cerchi ancora sempre i luoghi, li cercherai sempre! Ma se tu capisci che Dio è Spirito e cerca degli adoratori in spirito è verità. È vero che l'ora viene, ma è anche già. Cosa fai tu dunque? Bevi di quest'acqua. Come dire, presentati! Agar! Signore, stiamo morendo di senso! E il signore gli fa vedere e Agar si voltò e l'acqua era là vicino. Come tanto? Dov'è l'acqua? E l'acqua era là vicino. Vedete? Se lo leggete vi rendete conto che Agar non vedeva la soluzione vicino a sé. Gridava a Dio come se... Anche Mosè, perché gridi a me? Parla! Vedete, tante volte noi ci spaventiamo e non consigliamo... cioè, perdiamo di vista quello che il diavolo cerca sempre di colpire. Vuole togliere la tua attenzione da colui che è vicino a te. Questo è quello. E lui sa che il danno è quello. Non tanto se... Per esempio se non vedi una cosa, non comprendi questo, sei sbagliato in questo... Non è tanto quello che ti allontana da Dio, capito? È quando tu indurisci il cuo... Vedi? Cioè vuol dire respingi il fatto che lui ti sta parlando. Al posto di pensare sempre a Crefel. Pensa che adesso qua c'è il re de re, il creatore del cielo e della terra. Perché noi l'abbiamo invitato. Non perché siamo meglio degli altri. Semplicemente perché l'abbiamo invitato. Poi lui ha fatto una promessa e ha detto dove due o tre si radunano nel mio nome. Ok? Dice io sono in mezzo a loro. Quindi adesso noi abbiamo la responsabilità. Questo una volta il Signore me l'ha fatto proprio perché io sentivo sempre dire... E il Signore è anche lì da quando eravamo lì a Gallarate, no? E allora praticamente... Dicevo... Sì, vedi come le persone si vantano che Gesù ha promesso che egli è in mezzo di noi. Dentro di me ho sentito... Sì, però io sono in mezzo di voi. Ma voi occupatevi di non farmi scappar via però. Perché... Quante volte avete... Non so se magari... Io l'ho visto tante volte. Culti in qualsiasi luogo. Che iniziano bene. Cioè... Cominci a sentire... E dopo quando cominciano a... L'uomo a metterci la sua impronta. Senti che quella... Quella benedizione piano piano si dilegua. E alla fine rimane solo quello che state osservando osservando e ascoltando. Sono quello. E addirittura poi sfocia anche nella noia, nel nervosismo, nel disturbo, perché magari si fanno discorsi che si va fuori soggetto, perché si allunga troppo, perché... Ecco... Giustamente si è partiti nello spirituale. C'era quella... quella bella cosa. Aspetta, magari nel cantico c'era quella... Quella cosa, no? Che... che vi... Vi stava... Toccando, no? Che vi stava risvegliando lo spirito, no? Ma poi dopo piano 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 piano... Perché quell'effetto un po' di... Di amarezza? Semplicemente perché c'eravamo aperti. E quindi l'anima cominciava a desiderare. Cioè... Gli veniva sete della presenza del Signore. Però dopo questa presenza... A che la sentiva che comincia ad allontanarsi? Allora dice... Rimaniamo così scioccati. Ecco, vedi... Noi non ci rendiamo conto di che cosa avviene nello spirito. Non ci rendiamo conto. Diamo troppo, poco importanza. Se la Chiesa riacquista questa visione. Allora vedete come le cose piano piano si andranno a mettere nel loro posto. Perché? Perché quando si predica si prende un'autorità spirituale. Cioè anche sui demoni. Si prende un'autorità spirituale. E allora le anime cominciano a ricevere quello che devono ricevere. E la parola di oggi è troppo importante perché parla non tanto del fatto che Dio parla a noi, perché quello lo sappiamo, ma di come tu la devi prendere questa parola. Come li devi andare incontro. Quando negli ebrei è detto esercitate l'ospitalità, vuol dire quando il Signore viene, di eccomi. La casa è pronta per te, il mio cuore è per te, Signore. Dillo eccomi. Apriti. E allora il Signore verrà. Non indurire il tuo cuore. Allora lui dice qua, come la samaritana, dice se tu bevi di quest'acqua, c'è questa realtà vivente, dice in te diventerà una fonte. E lui dice, sgorgano dal mio cuore parole soavi. In un altro salmo sempre Davide dice, io stavo davanti all'empio, mentre gli fa... e dice, dice dentro di lui, dice il mio cuore cominciava a riscaldarsi, qualcosa del genere. Un fuoco si è acceso dentro di me. Notate? E poi dice, è la mia lingua parlato. Io canto il mio poema al re, la mia lingua sarà come una penna di un veloce scrittore. Quindi vedete che cos'è la lingua, cosa fa? Scrive. E lui dice, se tu domini la tua lingua, sei un uomo compiuto. Perché? Perché tu starei molto attento a quello che scrivi, quando parli. È molto importante. Se non stai attento, l'anima, che è la cosa più preziosa davanti a Dio, l'anima dell'uomo, i cortili del Signore sono là, nell'anima. Cioè dove Dio vuole venire, ha fatto la promessa dello Spirito Santo. Cosa vuol dire? Che Dio verrà a fondersi con il nostro Spirito per dimorare nella nostra anima. Quindi è la cosa più bella, più importante per il Signore. Se io scrivo, cioè ci metto qualche cosa che la turbo o che la inclino in modo sbagliato, io sto creando dei problemi a Dio, dei problemi nel senso delle difficoltà. Faccio sempre la testimonianza che quando io andavo a mettere le piastrelle, no? E andavo sul luogo, trovavo quello che era venuto prima di me, che aveva fatto il lavoro fatto storto. Magari i sottofondi erano tutti storti. Cosa dovevo fare? Mi creava dei problemi quando io dovevo mettere le piastrelle. Mi rallentava, il lavoro non veniva bene, non poteva venire bene. Allora magari dovevi, prima di iniziare dovevi preoccuparti di mettere a posto quello che la mano precedente, l'operaio precedente aveva fatto, tu lo dovevi prima sistemare e dopo potevi lavorarci sopra. Vedete? E il Signore cosa fa? Ti fa andare prima a te, no? Perché tu devi preparare il terreno. L'anima deve essere per così ammorbidita, preparata per l'incontro. Dopo viene il Signore lo Spirito, no? E dovrebbe, secondo quello che lui vuole, trovare l'anima predisposta. Così quando la voce di Dio viene, tu non indurisci. Perché magari hai in mente qualche altra cosa. Adesso mi vado a leggere un bello puscolo, sono a posto. Vediamo la trasmissione. Ma io non è che sto dicendo questo perché voglio come se volessi dire che la colpa è dalla parte per esempio di questi ministri, non c'è del fratello Brano per esempio, del fratello Franco. Che c'entrano loro? Il problema è cosa ne facciamo noi? Qual è il nostro atteggiamento nei loro riguardi? Ma che non è solo loro, ma possono essere anche altri, altri magari hanno in mente, la rincorsa queste cose e le facciamo diventare dei monumenti. E quindi cosa facciamo? Blocchiamo lo Spirito Santo. Lo fermiamo. Tanto non c'è, tanto siamo a portare a questo messaggio. Ci circondiamo, ci nutriamo di parole e teniamo lontana la realtà. Perché la realtà è un movimento, non è un monumento. Il monumento è quando noi blocchiamo qualcosa e la facciamo rimanere lì così fissa e diciamo è a posto. Invece lo Spirito Santo dice cosa fa? Aleggia. Egli si muove perché lavora. E Davide qua notate, io vi dico, sta facendo la descrizione di un'esperienza o quello che ha letto? Guardate, tu sei più bello di tutti i figli degli uomini. Di cosa sta parlando qua? Di qualche dottrina? Di cosa sta parlando? Sta descrivendo qualcuno. Capite cosa ha fatto? Cioè cosa Davide nelle sue scritture, nella sua storia, Dio cosa ha voluto comunicare? Che Davide non è stato passivo. L'Eterno è il mio pastore. Egli mi conduce nei verdeggianti pascoli. Davide ha fatto questa esperienza. Non di starsene lì così ad aspettare che... Ma egli si è inoltrato, ha cominciato a sbattere le ali ed è andato incontro a ciò che doveva venire, alla sua progenza. Gli è andato incontro, capite? Come tutti i santi sono pellegrini per questo motivo qua. Perché si sono mossi. Perché sono andati incontro alla promessa. Non perché l'hanno aspettata così. E hanno detto, è tanto la promessa del Signore, è tanto la promessa. E si sono... Quando dice in Geremia, Geremia è stato il profeta che di più ha toccato questo tema. Del tipo... Voi vi circondate di... Parla di parole fallaci, parole ingannatrici. Dice non vi soffermate su parole ingannatrici. E poi quali sono queste parole? Non è che dice parole sbagliate. Pace. Pace. Quando pace non c'è. Non che io non sono un Dio di pace. Attenzione. Voi vi riferite a delle cose giuste. Ma state trascurando proprio me. Non è lì che si parla del discorso le cisterne rotte in Geremia? Avete abbandonato me la fonte. La fonte. E Davide invece gli stava andando incontro. E lo descriveva. Tu sei più bello di tutti i figli di... Le tue labbra sono ripiene di... Le tue labbra. Qui parla di due cose. Di quello che egli dice e del come lo dice. Del come lo propone. Le tue labbra sono ripiene di grazia. Vedete? Perché questo? Perché Davide aveva fatto l'esperienza non solo di leggere la legge e di ascoltarla attraverso qualche profeta, ma gli andò incontro, accolse e udì. Difatti il Signore Davide disse in un Salmo che adesso non ricordo. Dice una volta il Signore mi ha parlato. Due volte ho udito la stessa cosa. Due volte udì. Vedete che Davide non ci parla di qualche cosa che aveva letto, ma di qualcosa che aveva realizzato. no? E adesso dice, cingiti la spada al tuo fianco pro. Cioè io ti riconosco per quello che sei, per l'immagine che hai, per l'autorità che hai. Sì, del tuo splendore e della tua maestà. E nella tua maestà avanza sul carro, avanza, è un movimento. Vedete? Per la causa della verità, della mansuetudine e della giustizia. Questi tre elementi li vedremo un'altra volta, che corrispondono a quello che disse Paolo a Felice, no? I tre aspetti della parola di Dio. La parte, dice, parlò di giudizio, di giustizia e di autocontrollo. Mansuetudine. Vedete che la parola di Dio ha queste tre caratteristiche, no? Però non ci soffermiamo su di questo. Avanza, vittorioso, tu hai i tuoi dardi, sconfiggi i tuoi nemici. Il Signore passa per fare che? Perché tu te ne stai bello così e fa tutto lui e tu stai ne come a guardare la televisione. No, no, il Signore ti invita a salire. Vi ricordate Elia? Passarono dei carri ed Elia fu preso da questi carri. Capite? Cioè, Eliseo ed Elia, Eliseo andava... Elia, cosa... Eliseo cosa faceva? È scritto discorrevano insieme, parlavano insieme. Capite? Là, Eliseo prendeva tutti gli... è un po' come Maria, ai piedi di Gesù. È lì che si imparano le cose segrete. Capite? Il messaggio per la sposa è implicito. Implicito. Invece il messaggio per gli ignoranti è esplicito. Riflettete su di questo. Ma non è scritto proprio come stai dicendo tu. Non è scritto. Certo. Bisogna vedere se tu... se vuoi essere un ignorante allora il Signore ti scrive tutto, come alcuni. Che devi precisare anche quanti baci bisogna darsi. E dice un bacio. Capisci? Noi stessi ci trattiamo da ignoranti, da dementi spirituali. E poi parliamo della spiritualità. Capite? Dobbiamo trovare scritto tutto. Perché siamo spirituali. Allora abbiamo bisogno di essere trovati scritto tutto. Io dico ma lo spirito santo a te cosa ti serve? Lo spirito santo quando viene ti fa l'effetto di Davide. Ti fa entrare all'interno per vedere ciò che è implicito. Ti fa vedere i collegamenti, le congiunzioni e allora si apre qualcosa davanti. Qualche cosa che è riservato e segreto. È riservato soltanto a quelli che non si che non si intoppano. Non c'è scritto qua. Non è scritto chiaro. E ma non l'ha detto il profeta. Ecco quelle persone così rimangono, si bloccano, si fermano. Ma la sposa ha un altro tipo di sentimento. Egli vuole entrare nel segreto di Dio e lascia allo spirito santo, alla voce. Capite? Lascia allo spirito santo di parlargli delle cose nascoste, implicite. Sono le intimità. E Dio ha messo una protezione a questa intimità. Non vuole che il nemico deve entrare. E allora egli ha riservato qualcosa di segreto solo a quelli che lo vogliono. Che vogliono entrare. Che sono disposti a rinunciare a se stessi. Vedete? Sono tante cose. E quindi è questo. Prendiamo per terminare in Giacomo. Perché non volevo fare tale. Bene o male, mezzogiorno e mezzo. In Giacomo, nel capitolo 1, leggiamo una cosina. Questo, fratelli, vedete io anche l'ho registrato, lo stiamo registrando questo messaggio. Ve lo potete riascoltare. Ma dico, se lo afferrate bene, prendete, cercate di capire cos'è che Giacomo vuole dire qua. Perché è quello che compete, è il segreto dei santi antichi. Cosa devi fare tu quando odi la parola di Dio? Perché avvengono delle cose. Poi parliamo, acceniamo, facciamo l'accenno, non leggiamo tutto. Facciamo l'accenno, no? Alla parabola che ha detto Gesù. Dice, quelli, il seminatore, vedete, non è neanche l'uomo, è il figlio dell'uomo. Vedete? È lui, è lui che parla. È lui che deve diventare il protagonista. Ecco il perché questo momento diventa importante. perché c'è lui. Non perché solo si parla delle cose che sono scritte, ma perché l'autore qua, ed è lui che sta seminando, è lui che sta nell'invisibile, sta facendo qualcosa. E se noi non ci colleghiamo a questo movimento, no? È perché abbiamo i nostri concetti già schemati, confezionati, perché il profeta ha detto, perché, vedete, noi impediamo e il seme che cade, gli uccelli se lo vengono a prendere. E noi siamo sempre lì, sempre in quella statura, sempre, sempre in quella, dopo vent'anni, siamo sempre in quella posizione, sempre in quella, vedete, il Signore è andato avanti. E come lo raggiungiamo, fratelli? guardate che sto parlando di cose serie, di cose che possono diventare nella nostra vita un problema. Fratello, tu non hai il problema di andare con le donne, di fumare, tu hai il problema che non sei con Gesù Cristo, questo è il tuo problema, che ti sta illudendo. È un problema molto serio. Preferisco sbagliare come Davide, essere un adulto piuttosto, essere un assassino, ma trovare colui che mi viene incontro sul carro, voglio andare incontro. Io devo riprendermi ciò che è stato, diciamo, l'esperienza capitale in tutte le epoche, dall'Antico Testamento al Nuovo, cioè quello di muoversi e andare incontro. Il Signore non è che ha detto soltanto io vengo, ma ha detto io vengo, ma tu, dice Nino Inosea, preparati allo scontro con il tuo Dio. Preparati tu allo scontro, non che io vengo e basta, tu devi venirmi incontro. Ci deve essere questo impatto, questa luce che deve andare a toccare Gesù. Vedete cosa dice qua? Giacomo 1,19. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare. A cosa devi essere pronto tu? A ricordarti le frasi di un altro? E sottomettere Dio a quello? Oppure devi essere pronto, pronto, pronto. Sottolineate, ripete, pronto, cosa vuol dire pronto? Vuol dire che c'è una preparazione. Pronto, come sei pronto? Come è pronto il mangiare? Così? Due modi ci sono, o è confezionato, allora è già pronto. Oppure pronto, cioè vuol dire sottoposto a un lavoro, sottoposto a una preparazione. Siate pronti ad ascoltare, lenti a parlare. Vuol dire, già come sta dicendo, l'uomo tendenzialmente è al contrario. Dice adesso voi dovete capovolgere questa situazione, la dovete capovolgere. Cioè deve riequilibrarsi questa struttura, deve rimettersi un po' a posto. Lento all'ira. Perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Dice, ma perché parla dell'ira? Perché l'uomo molte volte, molte volte, anche nell'ambito cristiano, parla sospinto dall'ira. Tante esaltazioni, tante grida che voi sentite, non è quella che voi chiamate l'unzione, la benedizione. È solo il carattere, il carisma della persona e basta. Ecco il perché non dovete farvi abbagliare. Sono tutti i rumori, i rumori ancora vuol dire che ci sono cose che non sono messe a posto in quell'individuo. Ecco il perché sbraita in quella maniera. O magari uno si esalta. Capite? Sì, c'è anche qualcosa. Ma vedete? Vedete anche i segni dell'umiliazione. I tratti, no? Vedete? Sono poche le volte che Dio grida. Sono poche. Perché Dio ci tiene di più ad attirare l'attenzione a qualcosa che ha a che fare con l'adorazione, la predisposizione all'adorazione. Poi, ah, ci sono alcuni che vedono sempre spiriti da tutti i lati, no? Allora devono necessariamente gridare sempre perché li devono cacciare. Capite? Ma dice, l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò deposta ogni lordura. Guardate che parole usa Giacomo. il residuo di malizia ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare l'anime vostra. Adesso state, ecco, soffermiamoci un attimino qua, che è importante. Siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Ci si può ingannare, eh? Ascoltando la parola. Ci si può ingannare. Se tu sei solo un uditore della parola intesa quando ti viene data dall'uomo, tu ti puoi ingannare. Ma tu lo sapevi che ti puoi ingannare anche quando ascolto, quando leggi un opuscolo, ti puoi ingannare? Tu lo sapevi? Ah no, ma se Dio me l'ha rivelate per questo motivo, perché siamo predestinati. Oramai abbiamo tutto confezionato. Queste barriere carnali, questo è filosofia. Ti impedisce di vedere il movimento dello spirito. Ti impedisce di vedere cosa sta facendo il diavolo, dove si sta appostando. E lui si prende gioco di te e tu continua ad illuderti, ad essere trassognato e a ripetere le parole degli altri e a farti una protezione. Vedete? Ma poi nel momento della prova sei sempre a terra. O in certe situazioni, quando il nemico viene all'improvviso, tu sei sempre mancante. Cioè dimostri sempre che sei fragile, gracile, debole. Cioè che non hai mai le armi pronte. Perché? Perché non vivi nei luoghi celesti. Tu vivi ancora nei luoghi terrestri. Ma preferisci pensare che stai realizzando quell'altra esperienza. è più bello, no? È più, no? Giusto? Siete facitori della parola. Non soltanto uditori, soltanto ingannando voi stai. Perché ecco, se uno è uditore della parola e non facitore, adesso capiamo bene cosa vuol dire facitore. Perché anche qua c'è un po' di malinteso. È simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva a se stesso e poi se ne va. Dimenticando subito com'era. Perché? Io guardo, guardo, cioè uno che ascolta, in quel momento lì ascolta e quindi entra in contatto con qualcosa e riesce a vedere se stesso, no? Perché la parola di che cosa ti parla. O ti parla di tanti bei ragionamenti e ti svia dal guardare te stesso. Dio un giorno parlò in sogno a Labano e disse guardati. Guardati dal fare il male al mio servo Giacobbe. Guardati. Questo ti dice la parola di Dio. Daniele disse a Nebuchadnezzia il Signore ha voluto far conoscere al re i pensieri del suo cuore. Vedi che cosa fa veramente Dio? Quando ti parla, ti dà l'opportunità di guardare bene dentro te stesso. Perché è lì che gli fonda la misura, ok? Come dicevamo ieri. Egli fa vedere il debito per intero affinché la tua poi riconoscenza cresca sotto quella base. L'uomo che gli è stato rimesso tanto, ma tu devi capire quanto è questo tanto, no? Tanto amerà! Ma se noi non diamo questo permesso a Dio, poco amerò. Cioè poco amerò, poco mi collegherò. Non è questione di amore. L'amore fraterno, l'amore sentimentale. L'amore di collegarsi a Dio, di stabilire. L'amore è collegarsi. L'amore. Due persone si sposano, cioè si collegano perché si amano. Non fanno solo smancerie, capite? Si uniscono. E così tanto amerà, cioè tanto si infilerà le sue radici in Lui. Perché tanto è stato rimesso. Cioè tanto io ho dato al Signore il permesso di investigare. Investiga mio Dio. Vedi se c'è qualche cosa. Non Lui deve vedere. Io devo vedere. Scoprire il mio debito, così quando il Signore mi ristora, mi libera e mi riabilita. Vi ricordate Pietro, no? La riabilitazione di Pietro. Andate a dire a tutti i miei ed a Pietro. Pietro fu l'unico nominato. Perché? Perché aveva fatto quell'errore. Come dire? Pietro deve capire, deve pensare che io mi sto rivolgendo anche a Lui. Che non lo sto trascurando perché mi ha rinnegato. Andate a dire ai miei ed a Pietro. Pietro fu, quando sentì questo, rivide l'amore di Dio verso di lui che non aveva i confini, il collegarsi. Allora si è collegato a lui, vedete, a questo amore, a questo richiamo. Si è ristabilito il collegamento. Allora quando il Signore ti riabilita, dopo tu ti ricordi però il debito. Cosa hai fatto? Anche Paolo disse, non ricordo dove, fece accenno al martirio di Stefano. Lui si ricordò. Come per dire non mi sono mai potuto perdonare questo. Non mi sono mai potuto dimenticare. C'è un passo solo che non ricordo dove, dove Paolo menziona il suo dispiacere nei riguardi di Stefano, che era lui che aveva permesso quella lapidazione, aveva dato l'accordo. Vedete? Tanto sei stato, è stato testificato il tuo errore, tanto amerai. Quando il Signore ti tira fuori, no? E ti rimette davanti a lui, ti riaggancia al suo, tanto amerai. Ti troverò, ti troverò, dice il Signore, più amorevole nei miei confronti. Non solo delle cose che io ho detto, le guarigioni, la potenza, ma nei miei confronti. Ti troverò più amorevole. Mi aggancerò. Io vengo con il mio carro, giusto? Ti passo vicino come a Elia, no? Perché viene per prenderci, no? Vedete, chi è che ci porta all'ubbidienza, come dicevamo? Non siamo noi, non è che io dico, dobbiamo ubbidire, ma tu a chi lo dici? Davide ha detto, io sono un verme, non un uomo. A chi stai parlando? Allora indica la strada finché l'ha per questo verme, possa dalla sua condizione, o in qualsiasi condizione si trova, no? Entrare dentro l'ubbidienza. Come? Ehi, sali sul carro, il Signore è là vicino, è proprio ciò di cui tu hai bisogno, è questo. Ed egli ha preso quella forma per te, per dirti, se tu sali su questo carro, io ti porto lì all'ubbidienza. Tu realizzerai che riuscirai, ma non ti devi dimenticare chi sei, che se non stai su questo carro, tu non sei niente, tu non puoi fare nulla. È inutile che dici, eh, metto dei pesi. E il profeta ha detto così, così quello si spaventa e ubbidisce. Eh, ma sai, e voi vedete tutte le pesce, tutte, tutte depresse, perché sono lì tutte, eh, ma il profeta ha detto così, sai? Vedete, un gioco, hanno un gioco, un fardello sopra. Ma il Signore è venuto a liberare. Tu, chi è che è? Se non sbaglio Paolo, parla della legge della libertà. Fate conto di muovervi come se foste giudicati dalla legge della libertà, non dalla legge dell'oppressione. Non è così che il Signore ti vuole vedere, perché Dio non ha occhi per l'esterno, nel senso che si compiace. Egli guarda la tua condizione, la vera forma che hai dentro e ti ha messo uno specchio, uno specchio spirituale per tu vederti di dentro e valutarti. Cos'è dunque che non si fa? Che poi ci dimentichiamo. Perché ci dimentichiamo? Perché non saliamo sul carro. È questo che non fai. Questo significa non essere facitore. Perché Gesù ha detto il mio cibo è di fare la volontà di Dio. Io mi nutro del fare. Fare che cosa? Il figlio non può far nulla se prima non lo vede? Fare. Fare. Ah, quindi c'è un fare che già c'è in corso. Eccolo qua il carro. C'è un fare? Non ha detto... lui Gesù ha sbagliato i termini se no. Cioè ha sbagliato anche il grammato. Ha detto... doveva dire il figlio non fa nulla se prima non lo vede dal padre. Invece dice lo vede fare. Quindi cos'è che tu devi fare? Devi salire su. Devi montare questo fare che già è in corso. Il carro. Devi salire sopra. Devi entrare nel suo flusso. Entrando in quel flusso tu ti stai occupando, capite? Di accogliere. Di accogliere. Ti stai nutriendo di lui. Il mio cibo è di fare la volontà di Dio. E come faccio a farlo? Come posso nutrirmi se io non entro nel suo... udendo la voce io non indurisco il mio cuore, no? Capite? Devo entrare dentro questa forza, il carro. Ed egli mi porta. E allora sperimento che l'Eterno e il mio pastore nulla... perché egli mi conduce nei verdeggianti. Io non so dove andare, ma lui mi conduce. Egli mi fa... già c'è dice in luoghi sereni. Mi fa andare verso i ruscelli. Lui lo fa. Io non so farlo. Non so il perché. Perché il diavolo mi ha tolto quella caratteristica. E Dio che me l'è venuta a riportare. Ma non è soltanto un fattore di ricevere e basta. Quante persone hanno ricevuto lo Spirito Santo e poi dopo anni li avete trovati in... come devo dire? in difficoltà. Perché? Perché hanno dimenticato la fonte. Cioè il motore di questa fonte l'hanno dimenticata. Ecco qua. Non danneggiare l'olio e il vino. Si sono presi soltanto la gioia. Si sono presi soltanto la potenza. E la persona? Dov'è? Ecco l'agnello di Dio. Quelli si sono voltati. Matteo e chi era? Matteo e Filippo forse. O Matteo e Giovanni. non so. Si sono voltati e hanno visto un uomo che camminava. Ecco l'agnello di Dio. Quindi il messaggio cos'è? Seguilo. Sta camminando? Seguilo. Ah, ma prima avevi detto che toglie il peccato dal mondo. Eh, sì. Lui fa questo. ma egli anche ha un suo cammino. Cosa vuoi fare? Vuoi stare soltanto lì così a dire oh, il Signore ha preso i miei peccati. Oppure vuoi seguirlo? Allora, se l'hanno seguito, Gesù se ne ha accorto, dice cosa cercate? Cosa? Cosa? Noi non stiamo cercando qualcosa da te. Ricordate il discorso dei pani? Voi mi avete seguito per questo? Dice cosa cercate? Dove abiti, Signore? Cioè, io mi, Signore, non sto cercando qualcosa, non voglio qualcosa da te. Voglio capire tu dove stai andando. Voglio capire tu cosa vuoi fare. Voglio capire tu dove abiti. E allora il Signore ha detto venite e vedete. Perché per vedere questo è necessario, fratelli, seguirlo. Se no, non si può spiegare. Perché Egli dove dimora la parola? Nello Spirito. Dice il figlio dell'uomo non ha dove posare. Dove abita? Abita nello Spirito del Padre. Là abita la parola di Dio. Seguitemi, se no non potete comprendere. Se io ti dico, io dimoro là, tu dirai, ma che significa? Quando Gesù parlava, io me ne devo andare al Padre, si chiedevano, ma che cos'è? Cosa significa questo dire io me ne devo andare? Vedete? Allora il Signore dice, vieni e vedi, e tu lo puoi comprendere, lo puoi vedere, realizzare. Nello Spirito, se lo segui, ecco qua, sali sul carro e io ti faccio vedere. Egli è la potenza. Lì c'è il turbine, come è scritto per Elia, Eliseo. Elia, scusatemi, confondo se... Dice, e fu rapito in un turbine. La potenza dello Spirito. Vedete? La dinamica che muove tutte le... Non è stato congelato e fatto diventare un monumento bloccato là. Ah, io ce l'ho. No, no, è sempre in movimento, è noi sempre allerta. Eccomi, eccomi. Vedete? Questo è il messaggio. Quindi tu ti dimentichi del messaggio e viene qualcuno, perché ti sei occupato solo di ascoltarlo qua. Ma poi, quando sei a casa, non dedichi, non ci ritorni, non ci combatti. Quanto tempo spendi davanti a quello specchio? Dice, se ne va subito e si dimentica. Perché? Perché non stai dando luogo a quel passaggio che viene. Tipo, e tu devi entrare dentro, se no te lo dimenticherai sempre. Rimarrà lontano. Vedete? Rimarrà lontano. Sì, te lo ricordi così. Ma quale ruolo ha nella tua vita? Qui si tratta di... Dove lo lasciamo andare questa parola? Dice, la parola non servì loro a nulla, non essendo stata assimilata o incorporata per fede. Cioè, non c'è stato questo, questo contatto che ha generato il movimento, la trasformazione. Dice così nel Cantico dei Cantici. Dice, io non so spiegarmi, non so come mai, non so come, ma il mio desiderio, il mio desiderio, il mio desiderio, l'adorazione, no? Il mio desiderio di lui, dice, mi ha posta, cioè da qua a là, mi ha trasportato sui carri del mio popolo. Sui carri, io non lo so come, ma il mio desiderio, la mia brama, vedete? Mi ha posto su quei carri. E così il Signore mi ha condotto di qua. E io non me lo so neanche spiegare. Avverto delle cose, ricevo delle cose, e non mi so spiegare il come. Avvengono e io le posso esprimere. Non lo so. Ma il mio desiderio, io non lo so come, cioè non so spiegarvelo, non so come avviene, diciamo così, così, così. Non lo so, ma so che succede. Se noi veramente desideriamo questo, se noi veramente desideriamo essere facitori, vuol dire che quando Dio ti parla, tu dici eccomi. Questo vuol dire fare. Il fare non consiste in quello esteriore. Quella è la conseguenza. Dal mio cuore sgorgano... Perché? La mia lingua è un veloce schifo. Io sporrò il mio tema, farò. Ma perché? Perché i miei occhi hanno contemplato colui che viene sul carro. Ecco il perché sgorgano da me qualche cosa. Perché? Perché io gli sono andato incontro, non sono stato lì e così, soltanto ad aspettare, ma gli sono andato incontro, l'ho accolto. Ecco qua. Questo è il fare di cui ti devi occupare. Perché molti odono, non devi fare questo. Non lo fanno. E poi si vantano di averlo fatto. Oh, dice quel povero lì, è là che si batte il petto, e il fraliseo dice, signore, io non sono come lui, io non faccio questo. Cioè, significa, ubidisco alla tua legge, non faccio quello. Quindi vuol dire, ubidisco alla tua legge, do la mia legge, vedete, faccio questo, faccio questo. Vedete? E dice, ma quello non fu giustificato. Non fu giustificato. Invece quell'altro, che si batteva il petto, sapete cosa stava cercando? Stava cercando di incontrare colui che gli veniva incontro sulla via della misericordia e della grazia. Grazia è sparsa nelle tue labbra. Cioè, lui stava cercando questo, perché diceva, perché anche che io mi impegno a non fare questo, a non fare quello, ma se io non trovo te, signore, come fece Davide, io sarò sempre così realmente. Non vedo il mio peccato, e allora mi vanto come a quello. Anche lui potrebbe dire qualcosa a riguardo. E mi vanterò come a quello che dice, io non sono come a quello. Io faccio questo, io faccio questo. E si coprono. E il loro debito non lo vedono. Quanto è grande davanti a Dio. Non lo vedono, non lo misurano. Non danno luogo a Dio. E Dio con la sua freccia viene, lancia la sua saetta contro quel peccato della tua vita e lo dice i nemici. Poi un'altra volta vede, non so, un altro problema. Dice, il problema, per esempio oggi c'è un problema che si chiama sonno. Sonnolenza. Cioè, siamo tutti stanchi, tutti a tipo, ed è vero. E lui tira la freccia, dice, io adesso ti faccio fuori. Perché? Perché mio figlio deve stare sereno. Deve essere sempre preso, intorpidito. C'è un altro problema, non so, sono ansioso. Vum! Perché lui c'è. Se lui non ci fosse, allora diciamo sempre, ecco, lontano, e il Signore lo farà. e molti vanno avanti con questo, il Signore lo farà da anni, il Signore lo farà. E intanto il problema è sempre lì. Perché Dio non può toglierti qualcosa se tu non la lasci. Cioè, è come dire, io vengo per toglierti questo e tu lo prendi dall'altro lato e facciamo così. Così. Perché noi non lo lasciamo da dentro, no? Non lo lasciamo. Ecco perché dice, io non so come il mio desiderio. Perché? Perché in quel desiderio c'era veramente di salire là. Cioè non resistevo più al Signore, no? Non facevo più tirare molla. Io non lo so come, ma so soltanto che mi sono sentito tirato e mi sono trovato là. Perché abbiamo smesso di resistere. Occupiamoci di quel fare, fratelli. Di quel fare. Cioè di ospitarlo, cioè di interagire con lui. Lui ci passa vicino. Noi cerchiamo di far di tutto, di salire sul carro, come era stato predicato, quello lì, l'acqua che si muoveva. Fai di tutto per entrare là. Fai di tutto. Quello è il fare che il Signore ti dice. Non essere solo uditore, cioè che ascolti e aspetti. Ma avanza verso. Avanza verso. Ciò che il Signore vuole fare. Avanza verso. Prendilo. Sali sopra quel carro. Dici, Signore, portami. Perché? Perché so che tu non sei soltanto là. ma tu sei anche qua. Mi dai la possibilità di raggiungerti. Questo è il concetto misericordia, la grazia. È in questo che dobbiamo entrare. E allora noi sentiremo trasportarci. Perché un'altra forza, il turbine, verrà in tuo aiuto. che Dio vi benedica, fratello. Che il Signore ci aiuti, rente, a entrare dentro questo. Questa realtà. è in questo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti